Benvenuti a Mampamundi, oggi parliamo del nuovo volume di Limes, della copertina in particolare delle carte e quindi c'è Laura Canali con noi. Ciao Laura, il nostro appuntamento ormai consueto per l'uscita del volume che ricordo Fine della guerra, il titolo del volume che è anche il titolo del Festival di Limes di Genova dal 10 al 12 maggio, poi ne parleremo. Cominciamo come al solito Laura dalla copertina, qui vedete la copertina per intero e poi un dettaglio sulla destra e come al solito Laura, a parte la scelta dei colori, poi faremo magari un discorso anche quello perché è una caratteristica fin dall'inizio di Limes, questa puntata o un'altra quando preferisci e vedete il disegno in particolare, adesso vi mostro il dettaglio del disegno della copertina che necessita di una spiegazione e quindi a te Laura. Qui diciamo che mi è venuto in mente di lanciare una ciambella di salvataggio in questo mondo che passa un po' in secondo piano perché sta un po' sprofondando e diciamo che è una situazione così difficile, io non me la ricordo da quando è iniziato l'Imes, nemmeno l'11 settembre che mi ha fatto veramente paura, ho avuto più paura per l'11 settembre rispetto alla situazione attuale perché mi sembra come di stare su una corrente che mi trascina e non si può decidere niente, ma analizzare si può e forse ogni tanto leggendo bene, guardando bene le cose ho meno paura, questo senz'altro, quindi diciamo che l'invito è comunque non avere paura e approfondire sempre tutti i temi. Qui c'è un mondo, poi parliamo dopo del festival, però io ho chiamato la mostra Linee Spezzate, proprio ispirato a questo pensiero, nel senso il mondo è completamente cambiato, si sta frantumando in mille pezzi, difficili da gestire, quindi io l'ho voluto rimettere insieme anche nella sua forma sferica e questa ciambella che io ho legato con una serie di elementi che si ne vedono dei pezzetti, per esempio il primo anello che può sembrare questa specie di zebra, invece è un super ingrandimento di un'aureola, di un santo che io ho fotografato in una chiesa a San Daniele del Friuli, perché c'era un disegno magnifico e ho usato questo disegno per la geopoesia sul Friuli e qui l'ho voluto usare, ovviamente con colori diversi, cambiando i colori cambia tutto. Quindi non ci affidiamo ai santi per queste cose? No, non è per questo, ma mi piaceva… E neppure un riferimento alla terza guerra mondiale a pezzi del Papa, è proprio una cosa artistica direi… Sì, è una rielaborazione, l'ho voluto usare, chissà che magari porta bene, non lo so, e quindi però dando questi colori terrestri molto di terra, ho voluto sempre anche lì rafforzare il concetto del mondo, che è questa nostra zattera, e tutti i colori ruotano intorno a questa scelta, quindi anche questo prugna e questo arancio un po' più caldo, più spento, e poi c'è sempre un po' un satellite che è il nodo di Salomone, questo nodo di Salomone che è la connessione con il Divino, quindi non per affidarsi al Divino, ma io penso sempre che c'è un elemento imponderabile in ogni situazione che è legato al caso, legato a chi vuole credere al Divino, a Dio, agli dei, non lo so, o forse agli uomini, qualche persona che casualmente commette un'azione o fa qualcosa che innesca un meccanismo, ecco, questo imponderabile l'ho voluto dedicare a questa immagine, il nodo di Salomone rappresenta la connessione con chi ci ascolta da fuori, magari i marziani, e niente, mi piaceva sempre mettere questo segno che per me rappresenta un po' di speranza naturalmente, ma la speranza dovrebbe partire da noi stessi, dagli uomini che dovrebbero cominciare forse a ragionare in modo diverso. Eh sì, eh sì, siamo, insomma, l'avete visto anche per tutti i volumi che abbiamo fatto, appunto, è una fase proprio di caos, richiamo anche qui, Caosolandia, la mappa di Limes che si allarga sempre di più e ovviamente con il rischio sempre anche dell'imponderabile, no? Degli incidenti, perché poi insomma nulla è scritto, ovviamente. Allora, tu hai già accennato per il Festival di Ricordi, il Festival di Limes a Genova, la Festival di Sanitore, dal 10 al 12 maggio a Palazzo Ducale a Genova, ovviamente venite, l'ingresso è gratuito, chi non può venire però potrà vedere tutta la diretta sul canale ovviamente di Limes e questa, come al solito, il Festival si apre con la tua mostra perché insieme al Festival, ricordo, c'è la mostra di cartografica delle carte di Laura Canali che vedrete in diretta sul canale all'inaugurazione della mostra, ma che ovviamente chi è a Genova può vedere da tutte e tre giorni in qualsiasi momento e anzi consultate il programma che trovate sul sito perché poi sono previste sabato e domenica anche delle visite guidate alla mostra e quindi se venite in quegli orari, ovviamente siete lì già per il Festival, potete anche seguire la mostra con le spiegazioni di Laura e di altri esperti di Limes. Allora, come si chiama la mostra quest'anno e su cosa ti sei concentrata? Ecco, linee spezzate perché, come dicevo prima, questi territori che nascono, sono per esempio l'interno dello Yemen, la Libia, l'Ucraina, tutti questi paesi che sono implosi dentro, la Siria, perché dentro questi paesi che cosa è successo? Questi territori nascenti che poi sono mobili i confini perché dipende da azioni di guerra, quindi a volte cambiano in modo abbastanza repentino e anche millimetrico a volte, come per esempio l'Ucraina, e dentro questi territori che stanno nascendo, soprattutto in Siria, sono uno contro l'altro e all'interno ci sono poi le forze, le potenze mondiali che approfittano ovviamente di queste frizioni per spingere i propri interessi e accaparrarsi questi territori sotto la loro influenza. Allora, questo mi impressiona molto innanzitutto perché servirà un linguaggio nuovo, nel senso che noi fino a che c'è stato il muro di Berlino e le due fazioni del mondo avevano un linguaggio preciso e si capivano che non era espresso nelle parole, nelle collaborazioni, ma una mossa geopolitica o strategica aveva un certo significato che veniva tradotto dall'altra parte in un certo modo. Questo linguaggio ci ha salvato in qualche modo in tutta l'umanità, non c'è stata la guerra, non c'è stata la guerra nucleare perché all'epoca c'era questo concetto della deterrenza nucleare che oggi non c'è più e quindi questo linguaggio va ricostruito con queste entità che non ne hanno idea, cioè che il mondo non ne hanno veramente idea che si è retto su questo equilibrio secondo me e questa è la cosa più importante, questo secondo me è proprio un nodo di questa situazione storica e poi non si può solo dire che non c'è più la deterrenza nucleare che teneva in piedi, bisogna dire poi perché, cioè perché adesso tutti si stanno armando di più, perché ogni paese deve fare paura quantomeno al suo vicino, perché oggi senza quella protezione della deterrenza tra i due schieramenti ogni paese riacquista una parte di soggettività, non tutta, che va poi difesa purtroppo con questo metodo che è il metodo classico di sempre, adesso si potrebbe anche pensare a un mondo purificato da armi, la vedo molto difficile, ma se vogliamo fare i sognatori, ma non è certamente razionale, purtroppo non è razionale, quindi noi dobbiamo pensare a questo che non essendoci più la deterrenza nucleare i paesi hanno una soggettività diversa e che implica una difesa. Eh sì, ormai la guerra, come vi ho detto in tante puntate, la guerra ha violato tutta una serie di tabù che c'erano dalla fine della guerra fredda, ma anche dalla fine di quel momento unipolare degli Stati Uniti e per parlare degli Stati Uniti vi voglio mostrare appunto la carta, che è la carta a colore di questo volume, le priorità dell'America, che però è anche la carta principale del Festival di Limas, perché per chi verrà poi a Palazzo Ducati lo vedrà, il Festival di Dines è caratterizzato da questo enorme murale che è lì all'ingresso della sala, insomma fin dalla prima edizione e chi verrà scoprirà poi cosa c'è, però la carta principale del Festival è questa e si collega anche all'altro volume, Maldamerica, quello precedente a Limas, perché ovviamente, precedente rispetto a questo fine della guerra, perché ovviamente tutto parte, questa situazione di caos, dalla crisi dell'America soprattutto, che abbiamo appunto indagato in Maldamerica e che è un elemento importante anche in questo volume fine della guerra. E in questa carta, Laura, se insomma ce la descrivi, qui vediamo appunto le priorità dell'America e vediamo quindi la situazione internazionale dal punto di vista americano. Intanto, vista la situazione, io ho cercato sempre di essere più pulita possibile nelle mappe, perché le mappe subiscono un'influenza, questi territori così misti, in luoghi così piccoli, quindi in una scala mondiale diventa complicato, quindi sto cercando di essere più nitida possibile. e diciamo qui c'è questo elemento, il Rimland, sono due elementi fondamentali che saltano all'occhio, quindi gli Stati Uniti e questi paesi colorati di viola, che sono i quattro sfidanti, perché non è mai successo, da quando gli Stati Uniti sono una potenza, quindi da sempre, praticamente dall'età moderna in avanti, che quattro grandi potenze, perché stiamo parlando di paesi, sono potenze, quindi Federazione Russa, Cina e a suo modo la Corea del Nord per come è armata e l'Iran, che stanno sfidando gli Stati Uniti nei territori diciamo di loro interesse, non certo sul territorio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno in questa grave crisi che nasce dai vent'anni e anche di più di queste guerre senza senso che sono state fatte in Afghanistan e in Iraq, perché quando tu in un paese hai figli che sono morti nel deserto a combattere contro il vuoto, perché questo è, questo vuoto è ricaduto addosso agli Stati Uniti, per questo poi Biden dice in Israele non fate questa guerra, quello sarebbe il cambio di passo, ingoiare un rospo enorme per cambiare la situazione, perché loro hanno già visto cosa comporta, quindi questa sfiducia negli Stati Uniti da parte dei propri cittadini viene da questo gigantesco vuoto che si ripercuote su tutto il mondo, perché naturalmente perdendo loro di centralità e di potere si aprono delle fragilità nella nostra sfera in cui si inseriscono gli altri attori, che non è detto che siano, cioè noi siamo spaventati ovviamente perché facciamo parte del blocco Nato e se gli Stati Uniti ci dicono di andare in guerra è lì, come possiamo fare? Non possiamo non farlo, quindi questi sono gli interrogativi. Il secondo elemento è questa fascia obbligua al Rimland, perché il Rimland appartiene alla strategia precedente, storica degli Stati Uniti che sarebbe la zona del mondo da proteggere per gli interessi… Questo è proprio un aspetto geopolitico a tutto l'ondo, classico direi, anche continuità, poi su questo si basa tutta la teoria del contenimento, adesso non stiamo qua a dilungarci, ovviamente è cambiata perché l'Europa orientale il fronte si è spostato più avanti, però questo serve… Questo è proprio un elemento costante geopolitico della giuridica americana. Però perché serve? Perché loro avevano prima questa strategia che in qualche modo rimane fissa alla mente, poi c'è la strategia della guerra fredda, poi dopo c'è Caoslandia, perché Caoslandia è un concetto che nasce nel Pentagono e poi si ritorna invece a questa, cioè è come da lì questo passaggio che è abbastanza insensato per certi aspetti, secondo me proprio quello è un altro punto fondamentale, cioè manca la strategia, non sono più capaci negli Stati Uniti ma anche in tutte le altre generazioni giovani, il concetto strategico non ce l'hanno dentro, quindi questo passaggio è dovuto anche al fatto che si guarda solo agli interessi, invece la strategia porta più in profondità. E poi si danno ormai per scontate delle cose che invece sono caratteristica specifica della guerra fredda, della globalizzazione e che magari soprattutto le nuove generazioni non si rendono conto che invece non sono affatto scontate, che anzi vengono rimesse in gioco, tanti aspetti anche molto semplici. Allora nella carta ovviamente vedete anche, ovviamente in giallo sono i paesi con cui usano un trattato di difesa, come hai detto tu in viola abbiamo i quattro grandi rivali, che ricordo tre dei quali sono ex imperi, quindi anche qui un concetto importante da richiamare, ci sono anche i rivali nel giardino di casa degli Stati Uniti che sono appunto Cuba, Venezuela e li vedete qui a sinistra. Poi abbiamo anche una serie di potenze ambigue che sono quelle col pallino verde indicate e che ovviamente tra le più importanti sono l'India, l'Arabia Saudita che insomma fanno un gioco anche in questa situazione abbastanza di caos. Ovviamente come dicevi si aprono gli spazi di opportunità per tanti soggetti di giocare le proprie carte, di tentare anche la sorte in certi casi e poi abbiamo qua in verde il caos africano, qui tu Caoslandia ti fanno concentrato sull'Africa che è appunto considerata terra del caos. Ovviamente abbiamo poi col numero uno la Mediterraneo e quindi non evacuabile ma da regare ad alleati affidabili e qua rientra tutto il discorso italiano. E infine con il numero due vedete nell'oceano Pacifico gli Stati Uniti nel Pacifico da presidiare in funzione anticinese e appunto c'è tutta la questione del mar cinese meridionale. Insomma direi che è una carta estremamente completa, piena di dati ma sei riuscita nello stesso tempo a tenerla anche molto semplice e molto lineare. Sei soddisfatta? Sì molto, mi dispiace per il Niger perché in questo momento il Niger è veramente un esempio veramente geografico calzante perché gli Stati Uniti sono stati invitati ad andare via, lì c'è una base 101 che è quella dei droni dell'SAL importantissima e sono arrivati i russi addirittura quindi insomma c'è proprio un cambio, un passaggio e si spera anche che dialoghini un po' diciamo in questo frangente e poi sono stati invitati anche dalla base di N'Djamena in Chad, quindi lì c'è questa penetrazione russa molto forte, cinese e anche iraniana diciamo in Niger c'è stata adesso una delegazione iraniana che è arrivata e i cinesi per gli interessi diciamo petroliferi anche dell'uranio, quindi c'è tante cose in Niger e quindi questo è proprio il simbolo, non ho fatto in tempo a fare una mappa però insomma a me appresto sicuramente questa zona africana va rivista. Eh sì, avremo modo, avremo modo. Hai citato l'Iran perché adesso entriamo nel capitolo medio orientale di questa puntata perché ovviamente il medio oriente è una parte importante di questo volume e del festival di Limes insieme all'Ucraina ovviamente e a tutto il resto, però in questa puntata, vi ricordo, dedicheremo altre puntate al volume, al festival con Lucio Caraccio, con Fabrizio Maronta, poi spiegheremo insomma tutto, ma adesso ci dedichiamo un po' invece alla parte più medio orientale, vorrei mostrare questa altra carta a colori del volume, sono i flussi di armi per lo Yemen e quindi qui diciamo salta subito all'occhio Iuti, insomma la questione di Iuti, la minaccia che rappresentano tutt'ora. Allora sì, questa area arancione è di Iuti, ma io ho voluto disegnare al centro la dorsale, la zona delle montagne più alta perché poi degrada fino al mare, perché volevo rendere l'idea di come sono posizionati geograficamente, perché lì ci sono anche vette importanti, oltre i 3600 metri, quindi il punto di vista, Sana è una capitale in alto, quindi il punto di vista è eccezionale, sia sul Mar Rosso, sul Golfo Babel Mandeb, sul Golfo di Aden e quindi è la posizione forse migliore in qualche modo di tutti gli altri territori che poi si sono frazionati e si nota da questo, da come sono messi, che la parte che collabora con il governo, la parte governativa sta nella zona desertica, questo Adramut che è terribile, è un deserto caldissimo, per cui c'è pochissimo spazio sul mare, ma strategico anch'esso, perché è la parte della provincia di Al-Mahra, questa qui in diagonale bianco sul celeste, perché quella ovviamente dove c'è un confine ci sono i traffici, per cui le armi che arrivano dall'Iran, che arrivano per gli Iuti passano attraverso questo territorio e anche il mare diciamo approdano in delle spiaggette deserte e penetrano il territorio fino agli Iuti. Importante è il ruolo di Socotra, come abbiamo visto anche questi turisti che sono rimasti bloccati a Socotra in questi giorni, ho trovato veramente incredibile che ci fossero dei turisti, perché Socotra è al centro di questi traffici, quindi immagino che è un luogo dove incidenti possono avvenire molto, potrebbero avvenire, un luogo a rischio e comunque ci sono anche questi potenziamenti di base militare gli Emirati Arabi Uniti e stanno costruendo molto gli Emirati su Socotra e sulle isole accanto, proprio per posizionarsi proprio al centro del Golfo di Ada, poi di fronte alla Somalia, le coste somali. Poi ho disegnato in sottile queste le rotte, questa è una mappa, ci ho lavorato diversi giorni per essere precisa, manca solamente un progetto di oleodotto, perché l'Arabia Saudita comunque è più esportatrice di petrolio rispetto al gas del Qatar e dell'Iran, che ne hanno di più. Qui si è raggiunto un buon equilibrio, perché poi si vede che la zona dell'Arabia Saudita che penetra ovviamente è quella dove c'è un po' di pressione importante del vicino, però l'Arabia Saudita punta a un equilibrio con gli Iuti, non è più interessata alla guerra, vuole cercare di mantenere un po' la situazione più pacifica possibile, sia perché c'ha tanti progetti di sviluppo sul proprio territorio, sia perché… Ha subito parecchi danni dalla guerra che ha avuto appunto con gli Iuti, ha cercato in tutti i modi ma non c'è riuscita di placarli. Allora, volevo sottolineare che questa carta è anche realizzata ovviamente su delle fonti che si possono trovare, ma anche su dati e informazioni degli autori di Limes in particolare, e in particolare anche sottolineo la collocazione dei vari attacchi con più di daiuti e in particolare mi piace anche ricordare come alla scuola di Limes c'è stato un collegamento diretto, la scuola di Limes sapete in corso l'anno 2024, ogni anno questa scuola di Limes, che tra l'altro si tiene proprio in questo luogo fisico diciamo, quindi anche qui ci sono collegamenti, ospiti e così via, c'è stato il collegamento con la Cauduilio, c'è la nave militare italiana impegnata proprio nel Mar Rosso, che anzi è stata proprio impegnata anche in operazioni militari e quindi tra l'altro c'è un rapporto particolare con la Cauduilio perché era presente anche a un festival di Limes, le giornate del mare, noi abbiamo potuto anche visitarla in quell'occasione, quindi ecco una nave particolarmente legata a Limes, quindi non solo abbiamo avuto informazioni di prima mano, ma addirittura hanno partecipato direttamente. Io ho pranzato col comandante alla sua destra e quindi insomma ecco, gli studenti da scuola di Limes hanno avuto anche questa opportunità di parlare direttamente con i propri protagonisti sul campo. Allora, continuiamo direi sul Medio Oriente, su questa carta direi che abbiamo detto tutto, possiamo quindi passare anche a altre carte di Limes, in bianco e nero in particolare, perché ricordo sul volume di Limes alcune carte di genere sono 8-12, sono a colori, altre sono in bianco e nero e qui vedete appunto la provincia di Al-Mahara. Eh sì, questa è perfetta a seguire perché è uno zoom del confine, il confine al centro a cavallo tra Oman e lo Yemen, appunto si vede bene, intanto il confine aperto è solo quello lì, mi pare quello grigio, sì, al centro perché l'altro sul mare è chiuso e poi si vede il progetto di questa pipeline che andrebbe direttamente dall'Arabia Sodica, questo è un vecchio progetto, il petrolio e il gas sono fantastici perché i progetti li aprono, li chiudono, li tirano fuori, li ritirano fuori, soprattutto da potenza strategica. È questa linea tratteggiata. Sì, è questa linea tratteggiata che si vede e poi leggimi un attimo la freccia grigia, quella curvata. Penetrazione saudita della provincia di Al-Mahara per ottenere influenza sul mare arabico. Come dicevamo prima, questa io l'ho proprio fatta leggendo l'articolo di Antonella Caruso che ritorna dopo un certo numero di anni, ha sempre lavorato per l'IMES, sono molto contenta, sarà anche al festival di Genova e così ci racconterà, quindi questo è proprio un pezzo cucito sull'articolo dell'autore, quindi tutti i toponimi sono quelli che lei scrive nell'articolo per ritrovare i posti. Questo lo diciamo sempre perché ovviamente le carte di l'IMES geopolitiche sono sempre legate a un articolo o comunque a un'idea, a un concetto, non sono carte geografiche o anche geografiche politiche. No, infatti tutti questi elementi non è che si trovano… E allora passiamo all'ultima carta per oggi, sempre in bianco e nero, anche questa legata a un articolo, le operazioni di Aramco e quindi torniamo qua al petrolio, all'idrocarbù. Il petrolio di gas dell'Arabia Saudita, sì qui è una mappa, era un po' di tempo che non lavoravamo sull'Arabia Saudita, qui ho preso questa mappa proprio dal sito web di Aramco, in un paper PDF, dove ci sono tutte le operazioni. Mi è piaciuta molto, non sono potuta scendere in alcuni dettagli, ma ci sono dei giacimenti, soprattutto nel Golfo Persico, per esempio ce n'è uno che sta in un tratto di mare lì, dunque in alto, dove sono le stelline, Safania, da quella parte lì. C'è una zona che per poter andare a trivellare è stato necessario costruire circa 12 isole artificiali, perché siccome c'era poco mare, molto poco profondo e era instabile, diciamo dal punto di vista sabbioso, insomma, quindi hanno costruito, questo è un vecchio giacimento, però comunque hanno costruito queste 12 isole artificiali proprio per posizionare sopra le piattaforme per trivellare. Anche per il rispetto è uno studio tecnologico molto avanzato proprio per proteggere l'ambiente marino e le coste. Col fatto che l'Arabia Saudita è stata chiusa, è sempre stata chiusa, adesso si sta un po' aprendo al turismo, però è stata chiusa a delle zone del Mar Rosso che sono eccezionali, c'è una barriera corallina integra, però adesso loro stanno pensando a dei progetti che stanno anche pubblicizzando per i giochi asiatici invernali lì vicino sotto al Sinai, quella zona lì e adesso ecco vicino a Tabuk praticamente ed è in progetto questa città che si chiama The Line, era stata progettata questa striscia nel deserto di specchi che rimbalza il sole fuori e dentro è immaginato una città dove c'è una ferrovia sotterranea, una metropolitana che collega da un punto all'altro, una cosa veniristica fantastica e loro dicono a impatto zero perché sta proprio in uno di questi ambienti più, dovrebbe stare, dovrebbe sorgere perché stiamo parlando di un progetto, ma mi sembra una sfida abbastanza complessa anche perché comunque sia abitata da tante persone, adesso non mi ricordo da quante, ma tante, dovrebbe essere, per cui immagino solo i rifiuti umani, come faranno a smaltirli bene non lo so, quindi insomma abbastanza particolare, però poi c'è tutto, e poi si dovrebbe sciare lì vicino, quindi costruzioni proprio per proteggere, è per questo che l'Arabia Saudita sta cercando di trovare un equilibrio con gli iuti che chiaramente ormai sono uno stato, un territorio stabile e quindi, secondo me questo lo denota il fatto che si vedeva anche nella mappa a colori che c'è un piccolo dente di territorio sul Mar Rosso che è della parte governativa e quello serve intanto per la protezione delle isole davanti e quindi quello è un piede concesso dagli iuti perché non credo che questi piccoli spazi siano, sono stati decisi, per cui lì c'è già un equilibrio, si vede analizzando il territorio che c'è un equilibrio, insomma. Tra i vari soggetti. E allora, grazie Laura Canali, allora ricordo se volete approfondire questi temi, le carte, ricordo la tua rubrica, le mappe parlanti, che però trovate solo sul sito di Limes, solo per gli abbonati, però appunto sono dei video in cui tu approfondisci proprio ogni carta, ogni questione, quindi vi invito a vederle, ad abbonarvi a Limes per questo e ricordo ovviamente il Festival di Limes dal 10 al 12 maggio, mi raccomando, a Genova Palazzo Ducare, con la mostra cartografica a linee spezzate di Laura Canali ovviamente, e che più, il volume ovviamente potete acquistare in edicola di Iberia e gli abbonati anche possono leggerlo sul sito, quindi ancora grazie a Laura Canali e ci vediamo a Genova. Grazie Alfonso, presto. Grazie a tutti.